Bilancio partecipativo 2023 del Comune di Bologna Sono online i progetti proposti dai cittadini e dalle cittadine per trasformare il tuo quartiere. Con il tuo voto puoi decidere quale progetto verrà finanziato e realizzato. Se vivi, lavori o studi a Bologna, hai compiuto 16 anni, anche se non sei residente o non sei una cittadina o un cittadino italiano, puoi comunque votare. Anch'io voto.